Wewe ragazzi e bentornati in questo secondo episodio sulle pixel art in casa base. Come già detto nel primo episodio questa serie raffigura appunto le pixel art svolte in casa base su Fortnite salva il mondo e questa è una serie che mi piace fare ogni tanto, ogni due, tre mesi, sei mesi, dipende anche ogni quanto trovo tutto il materiale necessario. Comunque in questo video andremo a vedere cosa succede quando arrivano gli artisti e si mettono all'opera sul nostro gioco preferito. Visto il successo che sta avendo, visto i giocatori che sta accumulando questo gioco, non poteva che mancare quella che è la raffigurazione di Among Us. Proprio nel momento in cui l'impostore fa fuori un membro della crewmate, troviamo raffigurato questo preciso momento in tre mappe differenti. Tre case basi differenti per raffigurare l'intera figura, data comunque la semplicità dei personaggi di Among Us e data comunque la perfezione nella cura dei dettagli e visto comunque anche il riquadro svolto su tre mappe, io affido a questo lavoro un 9 su 10. Regia per favore passateci la seconda immagine, questa volta troviamo raffigurato il simbolo di Batman. Questa volta in una singola mappa, questo logo diciamo perché alla fine è un logo, si aggiudica un 7 e mezzo su 10. E sia chiaro, chiaramente è molto molto semplice sviluppare un logo del genere, ecco perché non gli vado ad affidare il voto massimo, anche se rimane comunque molto fedele alla figura originale. Gaming Noob Question si aggiudica un 7 e mezzo su 10. Questa volta Baby Beans ci sorprende con quello che è Dennis o almeno una figura reale raffigurata in casa base. Ebbene sì ragazzi, vista comunque la cura che ha prestato nei dettagli, la cura nei colori e comunque resta un'immagine molto molto fedele all'originale, io affido a Dennis un 10 su 10. Sarete d'accordo con me che è sviluppato veramente alla grande, addirittura con l'effetto delle ombre, come potete notare diciamo da certe strutture. Grande Baby Beans, 10 su 10. Questa volta con la collaborazione di due amici, Aix e Graf Degg, ci riproducono Deeper Pines di Gravity Falls. Ed è vero, magari è una figura molto semplice da realizzare, però anche a questo capolavoro, vista la fedelizzazione alla figura originale, vista la cura nei dettagli e visto anche il risultato finale, io affido a Deeper Pines di Gravity Falls un 10 su 10. Ora la prossima immagine, sempre sviluppata da Graf Degg, ci raffigura Izuku Midoriya. Personalmente, vista la difficoltà di questo personaggio e vista comunque l'esecuzione su una doppia mappa, io affido a Graf Degg un 9,5 su 10. Non gli affido il mezzo punto in più perché non è molto fedele all'originale, cioè me lo ricorda subito a primo impatto, ma non è fedelissimo alla figura originale. C'è qualche dettaglio che secondo me ha aggiustato, renderebbe questa figura un 10 su 10. Poi, chiaramente, se sbaglio, correggetemi voi nei commenti, c'è da dire che comunque era di una difficoltà impressionante sviluppare questo personaggio, e soprattutto ricordiamoci che è tutto fatto in casa base e non in modalità creativa dove sarebbe il triplo più semplice fare queste operazioni magari, no? O almeno raffigurare più dettagli. Comunque, nel frattempo direi di passare alla prossima. Li avevamo già visti nel precedente episodio sotto forma di un'altra pixel art, in cui dove se non sbaglio si stavano baciando. Questa volta, Kirito e Asuna di Sword Art sono raffigurati su non una, non due, non tre, ma bensì su 9 mappe differenti. Questa riproduzione in scala reale fatta in pixel art di Kirito e Asuna veramente merita un 10 su 10 pieno. Sia per la difficoltà della progettazione su 9 mappe, sia la cura nei dettagli e sia il rapporto fedelizzazione rispetto all'originale, secondo me questo è un capolavoro. Affido a Kirito e Asuna, purtroppo non conosco il creatore della pixel art, un 10 su 10, veramente complimenti. Qui abbiamo un certo Tyler XD che ci raffigura un semplice leone, niente che raffigura un'altra figura, è semplicemente qualcosa svolto dalla sua fantasia, un leone. Io affido a Tyler un 9 e mezzo su 10. È un capolavoro anche qui, però secondo me con qualche aggiustata, un dettaglio qua, un dettaglio là, risultava essere ancora più perfetta. Però vi ricordo che io non sono nessuno per giudicare, io personalmente ragazzi farei tutto peggio. Chiaramente tutto ciò che finisce in questo video secondo me è la definizione di pura arte. Non voglio screditare il lavoro di nessuno, assolutamente no, anzi, sono tutti capolavori magnifici. Però affido a questo lavoro di Tyler un 9 e mezzo su 10. Fedelissima all'originale, con dettagli ultra definiti, troviamo la rappresentazione sempre sotto forma di pixel art, la famosissima Luffy Girl. Praticamente non gli manca nessun dettaglio, io affido a quest'opera di Ivan Matrix un bel 10 su 10. La prossima pixel art sviluppata da Graf Degg vede la figurata Marble sempre di Gravity Falls. Marble per quanto sia abbastanza semplice da riprodurre, per quanto sia veramente fedele all'originale e curata nei dettagli, affido anche a quest'opera di Graf Degg un bel 10 su 10. Ovvio magari non è ai livelli di certe pixel art, però è molto fedele all'originale. Anche le colorazioni secondo me sono fatte veramente bene. Proseguendo la lista di queste opere d'arte, troviamo semplicemente un panda leggermente arrabbiato, sviluppato da Tyler XD. Questo panda leggermente arrabbiato merita un 9 su 10. È bello molte volte vedere anche cose sviluppate con la propria fantasia e non per forza riprodotte in base a un'altra figura, no? Grande Tyler. Proseguendo ragazzi troviamo una pixel art veramente veramente impressionante. Sempre Ivan Matrix questa volta ci sorprende con Pepe Taiga, sviluppata su due mappe differenti, infatti come potete vedere la metà superiore del cappello è sviluppata praticamente in un'altra mappa. E per quanto sia complessa questa figura, per quanto sia veramente dettagliata e fedele all'originale, anche quest'opera di Ivan Matrix merita un 10 su 10. La prossima che andremo a vedere è un cartone animato che sicuramente il 95% di voi conosce o ha visto almeno una volta. Infatti stiamo parlando di Scooby-Doo, il cane detective accompagnato dalla squadra ma in special modo da Shaggy. Questa rappresentazione di pixel art su Scooby-Doo in casa base, fedelissima all'originale per quanto riguarda sia i dettagli sia i colori, merita un 9,5 su 10. Proseguiamo, questa volta ragazzi abbiamo il dottor Vinderman che ci sorprende con il nostro caro Seabat. Seabat è possibile incontrarlo nel momento in cui vogliamo restare un superstite con due blab, lo possiamo trovare in ripare al rifugio che difendendolo ci farà spottare due moduli. E questa rappresentazione appunto della sua faccia in dimensioni praticamente gigantesche secondo me merita un 10 su 10. Ultra dettagliata, fedelissima all'originale e secondo me è veramente fatta in una maniera strepitosa, quest'opera del dottor Vinderman merita appunto un 10 su 10. È impressionante questa immagine ragazzi. Qua niente di che, potete semplicemente rilassarvi osservando questo smile gigantesco. Però seguiamo ragazzi, questa volta ritroviamo la famiglia di Steven Universe. E sì, al completo ragazzi, sviluppata su due mappe differenti, sempre dal nostro artista Ivan Matrix, quest'opera d'arte merita anche lei un 10 su 10. Sia per la difficoltà molto elevata, sia per lo sviluppo molto dettagliato addirittura su due mappe. E visto anche il fatto che non si è risparmiato, ha messo tutti e quattro i personaggi e in più ha deciso anche di dare quel tocco di colore un po' con photoshop, beh ragazzi, 10 su 10 per la famiglia di Steven Universe. Proseguendo ritroviamo anche quella che è la riproduzione in scala reale del re mitico. Questa è una di quelle opere che mi farei costruire molto molto volentieri nella mia casa base, se solo avessi le strutture disponibili chiaramente. Non è una pixel art, è vero, ma secondo me questa è un'opera che veramente merita anch'essa un 10 su 10, anche se non fa parte di questo video. Però mi sembrava giusto condividerla con voi. Proseguendo abbiamo sempre un'altra opera di Ivan. Questa volta ragazzi gli darò un voto, un 10 su 10 già in partenza, ma non vi andrò a dire chi è. Lasciate un commento voi qui sotto se l'avete capito, dovreste arrivarci subito. La prossima! Questa volta ritroviamo un capolavoro che non è una pixel art. Anche questa è un'opera che mi farei volentieri costruire nella mia casa base. E per quanto sia stata difficile riprodurla e per quanto impegno ci sia stato messo, io affido a questa torre Eiffel un 10 su 10 pieno. Considerate anche il fatto che queste opere d'arte sono state fatte in casa base, quindi non in modalità creativa. E poi riguardate bene le immagini, perché c'è da valutare il fatto che comunque non abbiamo tutto il set di oggetti disponibili per poter personalizzare le cose nella miglior maniera possibile come in modalità creativa. Ma nonostante ciò, seppur utilizzando solamente legno, mattone e ferro, guardate quanta creatività si riesce a avere. E anche questa fa parte di quelle costruzioni che mi farei volentieri costruire nella mia casa base. Veramente, complimenti! Proseguendo troviamo una raffigurazione in pixel art di chi? Di Taiplosion. Chi è Taiplosion? Fortunatamente è uno di quei Pokémon che ancora io conosco, in quanto le serie nuove non tutte le conosco abbastanza bene. Ma chiunque di voi sia un appassionato di questa serie conoscerà sicuramente questo Pokémon. Troviamo raffigurata infatti Taiplosion, la terza evoluzione di Syndaquil, con un 8 su 10, sì, secondo me con qualche dettaglio in più poteva essere fatto leggermente meglio. Proseguendo ritroviamo sempre i due soliti amici di prima, GrafDeg e Aix, che ci propongono questa volta Wendy, sempre di Gravity Falls. E anche Wendy, per quanto sia semplice riprodurla, però sia curata nei dettagli e sia fedelissima all'originale, io offido a Wendy un 10 su 10. Sarete d'accordo con me che è veramente identica all'originale? Un piccolo ostacolo nel video per farvi apprezzare questo cucciolo di balena. E proseguiamo, ritorna il Dottor Vinderman, questa volta con un'opera d'arte da 10 su 10. Infatti ritroviamo raffigurato in casa base Willow, il nostro eroe presente anche su Salva al Mondo. Questa ragazzi è una raffigurazione un po' strana, è vero che a primo impatto possono mancare magari dei dettagli, però secondo me questo progetto è stato realizzato appunto con un'arte molto particolare, per quello mi sento di affidare un 10 su 10. Cioè vedendolo a primo impatto capite già che è Willow, ma capite che è stato fatto appunto con uno stile differente da quello che sono tutte le altre pixel art. E osservato diciamo dalla lontananza viene veramente un'ottima figura. Grande Dottor Vinderman. Proseguendo ragazzi troviamo in una casa base Woodman di Mega Man. E per quanto sia semplice è tra virgolette poco dettagliato perché comunque è fedelissimo all'originale, in quanto anche il vero Woodman originale era diciamo così in 8 bit, no? Quindi io mi sento di affidare a quest'opera per la sua semplicità un 10 su 10. Ed è vero, con gli anni le grafiche si sono evolute e tutto quello che volete, ma comunque resta il fatto che resta fedele all'originale di Woodman. Passiamo alla prossima! Questa volta in casa base, direttamente da casa Nintendo, troviamo raffigurati Yoshi, Luigi e gli altri due, perdonatemi ma non me li ricordo proprio se hanno un nome, comunque la tartaruga che si utilizzava per esempio in Mario Kart per lanciarla e far sbandare i nemici, piuttosto che dovevate saltarci sopra su Super Mario Bros. E poi stare attenti comunque al guscio di tartaruga che andava avanti e indietro. Dai, tutti voi li conoscerete questi personaggi di casa Nintendo e per quanto siano appunto fedeli alle originali e per quanto siano sviluppate bene, e soprattutto quattro figure in una mappa, io affido a quest'opera un 10 su 10. Sinceramente guardando questa immagine mi è tornata in mente un po' la mia infanzia. Ho giocato a molti, moltissimi titoli in passato, diciamo, della casa Nintendo, sia da Super Smash Bros Mele, Super Mario Bros, Super Mario Kart, Super Mario Party, insomma ragazzi, li ho provati veramente tutti quanti. Complimenti per quest'opera. La prossima 5 secondi di pausa in questo video in cui sarete distratti dalla seguente immagine. Infine, per ultimo, ma non meno importante, ritroviamo raffigurato Zelda. Anche a giochi di Zelda ne ho giocati tantissimi, infatti nel mio canale troviamo molte colonne sonore presenti anche nei giochi di Zelda. Quest'opera d'arte in casa base, addirittura su sfondo, come potrete notare, merita un 10 pieno. Ed è vero, con gli anni la grafica di Zelda si è evoluta veramente tantissimo, ma se voi ricorderete addirittura i giochi di Zelda in 8-bit, in 16-bit, vi accorgerete di quanto sia dettagliata questa immagine e quanto, soprattutto, sia anche fedele all'originale. E questo è tutto per il secondo episodio sulle pixel art in casa base. Vi lascio le ultime due opere d'arte, appunto, sviluppate in casa base. Di questi due personaggi, ragazzi, non vi darò i nomi, potete cercarli a vostro rischio e pericolo su Google. E per oggi è tutto. Io vi ricordo che per supportare questa serie vi basta lasciare un bel pollicione in su. Per supportare, invece, la crescita del canale e la pubblicazione di contenuti continui vi basterà inserire il codice KinoTV nell'item shop di Fortnite. E soprattutto, ragazzi, fatemi sapere, secondo voi, quale immagine, o meglio, quale opera d'arte è la vincitrice di questo episodio. Voglio che siate voi a scegliere il vincitore o la vincitrice. Per oggi è tutto. Noi ci vediamo con il prossimo episodio. Bella, bella! Ciao!